non so se lo sapevi ma Alex Wise il talentuoso cantautore lanciato nell'edizione 2022 di Amici di Maria dei Filippi è pronto a tornare con nuova musica per l'estate 2024 ma prima di qualunque dettaglio ovviamente sigla sono Riccardo Divigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi il podcast a tema musica cinema e talent più ascoltato in Italia Eila come andiamo amici di Kiwi tutto bene? Come dicevo presigla Alex Wise che abbiamo conosciuto durante Amici di Maria dei Filippi nel 2022 è pronto a tornare con nuova musica estiva dopo il successo dell'EP non siamo soli che ha debuttato al primo posto nella classifica fini e ha incluso il singolo sogno al cielo certificato disco d'oro e il disco ciò che abbiamo dentro anch'esso certificato oro ovviamente Alex continua il suo viaggio musicale verso il terzo progetto discografico gli ultimi singoli di Alex un po' di te e la mia canzone per te pubblicati rispettivamente a ottobre dicembre nel 2023 hanno mantenuto alta attenzione dei fan ma ora con gocce di limone Alex presenta la sua prima pubblicazione del 2024 disponibile da venerdì 21 giugno sotto l'etichetta 21CO che per chi non se lo ricorda beh è la label di Maria dei Filippi insomma squadra che vince non si cambiano gocce di limone celebra l'incanto dei paesi mediterranei gli amori estivi i colpi di fulmine sulla spiaggia e le promesse che anche se sbiadite rimangono impresse nella nostra memoria il brano è accompagnato da un video in uscita allo stesso giorno curato dallo stesso Alex Wise che per la prima volta si cimenta sia con lo styling che con la regia il video ambientato in un'atmosfera mediterranea calda incontaminata rispecchia perfettamente il mood del brano promettendo di diventare una hit celebrativa dell'estate